ciao bambini bentornati un nuovo giocattolo bello grande anche tratto dalla serie ben 10 qui abbiamo four arms che si chiama anche in un altro modo due per due però qua c'è scritto four arms quindi lo chiamerò così e chi è un alieno un alieno tostissimo con quattro braccia infatti vedete qua quattro braccia ha una forza immensa e viene ferito raramente vediamo che cosa fa questo giocattolo battle with your favorite alien quindi combatti con il tuo alieno preferito è un gioco della giochi preziosi bisogna avere più di quattro anni voglio vedere dietro allora l'ultimo supereroe bambino di questa serie abbiamo hit blast four arms e diamond hit head diamond head forse sì quindi abbiamo questi tre personaggi adesso io lo vado subito ad aprire perché voglio capire se fa qualcosa se è un action figure non lo so quindi lo apriamo insieme eccolo qua il nostro 2x2 è snodato fa un po senso queste altre braccia qua giù lo voglio far proprio vedere per bene fai un bel sorriso di cheese hai anche quattro occhi non solo hai quattro braccia è un po bruttino eh quindi è snodato vedete anche le ginocchia si piegano le gambe si muovono guarda fa anche la spaccata a momenti questo come una ballerina scusa non voglio renderti ridicolo ma ti metti nella posizione da ballerina è tu 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 dai basta siamo seri siamo seri quindi le gambe si girano sono snodate le ginocchia si piegano le quattro braccia si muovono Sia quelle sotto Si piegano anche Che quelle sopra Poi nella scatola c'è anche Ma se dove ci stai? No vero? Ti metto un attimo qui Hai il baricentro Spostato Dicevo nella scatola c'è anche un fogliettino Che voglio andare a prendere Perché voglio vedere che cosa c'è scritto Ecco qua Il nostro foglietto Ci va a vedere tutti i giochi Della serie di Ben 10 Allora Queste sono le basic figures Con Ben E Grey Matter Poi abbiamo Hit Blast Diamond Head Oggi tu chi sei? XLR8 Four Arms Upgrade Overflow Cannon Bolt Poi Wild Vine Wild Vine Stingfly X Stim Smythe Dottor Animo E poi ci sono i Power Up Figure Che non è neanche questo Non è questo Il Power Up Figure è questo qua dietro E lo offriremo nelle prossime puntate Perché questo qua Ha luci e suoni Quindi del Power Up Figure abbiamo Four Arms Diamond Heat E Head Blast Poi qua che cosa c'è Il Transforming Alien Play Set Che si traccia da furgoncino Diventa tutta questa cosa qua Wow Ah ecco Queste sono Le giant figures Cioè le figure giganti Come il nostro 2x2 Poi che cosa c'è Qua Il Basic Omnitrix Che è un braccialetto Che fa delle cose strane Il Transforming Battle Uh Per trasformarsi Tipo Vestito di carnevale Insomma Con la maschera Il Deluxe Omnitrix Insomma Tante 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 cose Con più di 100 suoni e luci Fantastico Quindi c'è proprio tutto Un modo da scoprire Dei giocattoli Di 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 Ben 10 E noi oggi Abbiamo conosciuto Lui Four Arms Quattro braccia Potentissimo E super muscoloso Il nostro alieno Con quattro braccia Quattro occhi E infatti è molto forte Si ferisce raramente Forte 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 Se siete amanti Di Ben 10 Non potete Per farvi Sfuggire Il Giant Figure Assolutamente No È proprio Fatto Bene 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 Vi saluto Ci vediamo Alla prossima puntata Guardate Qualche altre cose Ho di Ben 10 Anche questo Diamond Hey Kid La La figura base Anche questo Lo scopriremo Nelle prossime puntate Quindi avremo Il nostro bel da fare In questi giorni Con tutti i personaggi Di Ben 10 Vi saluto Un bacione grandissimo Ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti